Ordine di cattura internazionale per la mamma italo-venezuelana accusata di sottrazione di minore all'estero e che di fatto da tre anni ha impedito al papà, suo ex marito, di vedere il figlio di appena sette anni. Il bimbo dal 2010 non ha più fatto rientro in Italia per volontà della quarantenne rimasto a Caracas, nonostante il suo rimpatrio sia stato ordinato da più organi di giustizia, in ultimo dal Tribunale di Sala Consilina che appena qualche settimana fa ha stabilito l'affidamento definitivo ed esclusivo al Valdianese. Per questo la donna, così come intimatole, aveva assicurato il rientro in Italia del minore. Così non è stato, dopo essere stata arrestata e poi rimessa in libertà con il divieto di allontanamento emesso lo scorso luglio, ha fatto perdere le sue tracce. Il sospetto è che con l'ausilio di documenti contraffatti abbia fatto rientro nella sua terra d'origine.